Nel Salento il mare e la terra si incontrano a tavola, piatti con ortaggi e legumi vi saranno presentati abbinati al pesce. La prima sosta golosa è nel ristorante underground di Castro ricavato da una struttura dell'Ottocento che, nata come parcheggio per cavalli e carrozze per chi veniva al mare due secoli fa, è stato interamente restaurato dalla famiglia Fedele. Facciamo dei piatti tipici salentini, tipo la parmigiana di melanzane, il calamaro ripieno, la taglieggia, sarebbe il riso patate cozze, pomodorini, il polipo con le patate. Quando è nato questo locale? Nel 2006. Nel ristorante Zio Tom, in località Ciarda, Santa Maria di Leuca, vi delizierà la bravura dello chef Mattia Cordella. Anche se sei molto giovane, sei partito da una bella carriera internazionale. Sì, diciamo, io ho iniziato fin da piccolo a lavorare nel ristorante di famiglia, poi una volta finiti gli studi, la scuola superiore sono stato frequentato l'ALMA, sarebbe la scuola internazionale di Gualtiero Marchese a Colorno. Dopodiché, preso l'attestato, ho fatto diversi steggi, sia nel nord Italia, in due o tre ristoranti stellati che è a Londra, anche per conoscere un po' la cucina internazionale e imparare l'inglese. Che cosa esprimi nei tuoi piatti? Diciamo, cerco di valorizzare i prodotti del territorio, anche perché la Puglia ha una vasta gamma di prodotti, soprattutto ortaggi, pesce e carni, che sono invitate in tutto il mondo. Diciamo, la peculiarità è quella di far conoscere ai nostri clienti dei prodotti che forse molti non sanno neanche che esistono. Si affaccia sul mare il ristorante La Grotta del Conte a Castro. Perché si chiama La Grotta del Conte? Salve, si chiama La Grotta del Conte perché praticamente c'è una leggenda, qui sotto c'era una grotta, dove un conte si incontrava nell'epoca del Medioevo con una ragazza della plebe. C'erano stati problemi, non erano d'accordo le famiglie, ma poi finì bene la storia e vissero felici e contenti. Che cosa offrite ai vostri clienti? Sicuramente pesce freschissimo, noi abbiamo proprio il porto di Castro, qui il pesce fresco ogni mattina, l'amore e la passione per questo lavoro. Vista panoramica sul mare e delizia per il palato, anche nello storico ristorante La Ragosta, dove incontriamo la titolare, Rita Elia. Quando è nato il ristorante La Ragosta? Il ristorante La Ragosta è nato nel 1965, per un'idea strabiliante di mio nonno, il nonno Vincenzo. Che tipi di piatti proponete? I nostri piatti sono sicuramente pescati dalla cucina tipica salentina e dal pescato fresco di ogni giorno, gli ortaggi, la pasta, i frutti di mare e il pesce ne fanno sicuramente dare. E anche una grande sala ricevimenti, la discoteca Blue Bay di Castro, dove si sono appena sposati questi due giovani radiosi nel giorno più bello della loro vita. E' andata benissimo, è un posto fantastico e sono bravissimi. Poi gli invitati hanno parlato chiaro, sono rimasti contentissimi, anche noi insomma, dato tutto al servizio, alla location, tutto bellissimo. Qui si aspetta l'alba ballando con i migliori DJ internazionali. Castro è la regina delle notti salentine per il Blue Bay, quanti giovani accogliete qui la notte? Beh, qui la notte si sposta veramente tanta gente, è un locale che riesce ad offrire molto divertimento, diversifica il divertimento in tre serate, qui riusciamo a fare dalle 5-6 mila persone tranquillamente. Quali DJ internazionali avete ospitato e ospiterete? Abbiamo ospitato a Vici, che l'anno scorso è stato il DJ numero uno al mondo, Bob Sinclair, una pop star, e diversi ospiti come Martin Solveig, i Daddy's Groove, Android dai Negramaro e ancora tanti altri. Offre una vista mozzafiato sulla Zinsulusa il ristorante La Zinsulusa. Che cosa offre il ristorante La Zinsulusa? Una cucina più locale che non nazionale, anche se è una zona dove c'è molti turisti, un po' da tutto il mondo, quindi bisogna fare anche un po' di cucina più tradizionale a livello nazionale. Qui sarete deliziati dallo chef Rocco Fedele, che ha fatto la storia della cucina salentina. Questa sera facciamo una pasta fresca fatta con i frutti di mare, poi i pasti di frutti di mare, sempre tutto a base di frutti di mare. Per portarsi a casa un souvenir goloso e magari organizzare una cena salentina tra amici, al vostro ritorno dalle vacanze, la sosta obbligata è nella bottega di prodotti tipici Delizia in Contea, in piazza della Vittoria a Castro. Ci sono i prodotti tipici solo del Salento, ci teniamo a dirlo, e andiamo alla ricerca dei prodotti più particolari, non prodotti che si trovano nella grande distribuzione. E se volete scoprire l'inaffiatòi salentini che la fantasia di Agostino Branca ha trasformato negli uccelli della pioggia, la tappa obbligata è nella sua bottega a Tricase. L'oggetto che abbiamo realizzato sul torneo adesso è stato corredato con i manici e delle leggere applicazioni, ma soprattutto alla base sono stati praticati questi fori che servono per far uscire l'acqua e questo foro in alto che era quello che abbiamo realizzato sul torneo. Questo viene utilizzato semplicemente, una volta veniva usato nella versione originale che era più grande di quello che abbiamo visto, veniva immerso nei contenitori in muratura che stanno nelle campagne, quindi si riempiva completamente, questo è un altro modellino già utilizzato, quindi si poteva poi trasportare l'acqua, come vedete non cade, e si può anche vedere da sotto, facciamo vedere in questo modo qui, e non cade finché si libera questo foro per far cadere questo oggetto a doccia, che era indispensabile per le piantine, soprattutto durante la coltivazione del tabacco. Per un picnic in Pineta consigliamo Punta Meliso a Santa Maria di Leuca. Punta Meliso nasce nel 2005, siamo tre sorelle a gestirla e studiavamo tutte e tre. Abbiamo scommesso nel futuro di questa terra, quindi del talento, e abbiamo lasciato gli studi per poter buttarci a capofitto in questa avventura. Con tutte le difficoltà del caso ovviamente, ci crediamo, e puntiamo soprattutto a far sentire il cliente come a casa sua, nel senso che comunque lo mettiamo a proprio agio, è un posto molto semplice, spartano, quindi è molto informale. I clienti vengono sia con i bambini, con le famiglie, le coppie, vengono a stare nella tranquillità più totale di questa atmosfera, di alberi, di mare, di profumo del talento, che comunque il turista lo percepisce, questa terra calda, piena di sapori. Ma dove dormire? Nella Lecce barocca, tra le delizie del palato firmato dallo chef donato episcopio, si può soggiornare in tutto relax al Risorgimento Resort, oppure al Presidente o all'Eos, curato anche per accogliere i non vedenti e gli ipovedenti, uno dei primi progetti in Italia. Il gruppo Vestas è un gruppo alberghiero molto giovane, che nasce a Lecce nel 2007, è un brand alberghiero che riunisce sotto un unico nome tre strutture ricettive, tutte e tre collocate a Lecce città. Il Risorgimento Resort, che è un 5 stelle lusso, una dimora storica di fine 800, che si trova in Piazza Santo Ronzo, quindi la piazza principale della città di Lecce, si presenta come una vera e propria dimora di lusso, quindi con una facciata antica, l'interno però completamente rivisitato, rinnovato, con tratti di design d'autore. Poco distante dal Risorgimento Resort abbiamo l'Hotel Presidente, che è un 4 stelle, un centro congressi con 150 camere e un grandissimo ristorante, il ristorante Miosotis, e infine l'Eos Hotel, che è la struttura in cui ci troviamo in questo momento. A Castro, negli alberghi, camere con vista mare e mozzafiato. Entriamo nell'Hotel degli Ulivi. Quando è nato l'albergo? L'Hotel degli Ulivi è nato nel 1973, è stato costruito, diciamo, da mio padre, che è stato il pioniere del turismo a Castro. Quali sono le caratteristiche? È strutturato su sei livelli, i primi tre livelli dedicati alla ristorazione, gli ultimi tre livelli sono dedicati alle stanze. Caratteristica principale sono proprio le terrazze delle stanze ampie, dove si può gustare la colazione al mattino o anche durante il pomeriggio un aperitivo. Si affacciano tutte sul mare le camere dell'Hotel Orza Maggiore. L'albergo è stato inaugurato nel giugno del 70 da mia suocera, Ada Schifano. Poi per vent'anni l'hanno tenuto i figli, dopodiché è passata la terza generazione. Perché si chiama l'Orza Maggiore? Perché da qui si vede benissimo la costellazione dell'Orza Maggiore, quando le serate sono belle, chiaramente. Quali sono le caratteristiche del vostro albergo? Il nostro albergo ha 30 camere, sono tutte viste a mare, tutte con balcone, tranne tre, che comunque hanno una finestra che dà sul mare. Abbiamo un'ampia sala ristorante che dà sul mare anche lei. Sono tutte protese sul mare, tanto che sembra di stare su una nave, le ampie e raffinate camere del piccolo mondo, costruito a strapiombo sulla scogliera e con piscina alimentata con acqua di mare. Sarà un'esperienza indimenticabile svegliarsi e affacciarsi sullo splendido mare di Castro. L'alba ti attraversa l'anima.